C'è un'indagine dei carabinieri del reparto territoriale di Gera al fine di dare un nome ed un volto a chi sabato scorso in via Rio de Janeiro e Viale Indipendenza ha depositato cumuli di spazzatura sulle due arterie cittadine. Il reato che si profila è quello di abbandono dei rifiuti per strada. Per la giunta messinese quanto accaduto è opera di individui che hanno agito con furia insensata procurando un danno incalcolabile alla città e a se stessi. A questo si aggiunge anche l'incendio del Palatenda a Macchitella. Azioni preordinate dopo che mattinata era stato ripulito il quartiere Manfria. Eppure altre rincara l'amministrazione comunale anziché condannare senza mezzi termini i comportamenti incivili seguendo l'abbrivio che hanno imboccato fin dal primo giorno di insedimento della nuova giunta accusano che amministra senza nulla avere da ridire sui comportamenti malavitosi. Esattamente è come quelle mamme che chiamate dalle maestre per le marachelle dei propri figli difendono a spada tratta la loro maleducazione e accusano le maestre di non saper fare il loro mestiere precostituendo un brutto viatico per il futuro dei propri ragazzi. Al tempo del terrorismo in Italia qualcuno si trincerava dietro i compagni che sbagliano ma ora, dice la giunta, è peggio perché non viene neppure detto che sbagliano ma piuttosto puntano il dito accusatorio su chi sta lottando sin da primo giorno per risolvere problemi annosi e colossali. La politica che sfrutta in tal modo la munnizza che non sa distinguere, non sa individuare e condannare i comportamenti incivili che si ispirano ad atteggiamenti delinquenziali è destinata essa stessa ad essere ripagata con la stessa moneta. I sedicenti cultori del bello dovrebbero rabbrividire per questi episodi eppure non accade perché l'obiettivo di Costoro è sempre lo stesso, il sindaco e i suoi assessori. Intellettuali spesso incapaci di accorgersi del guasto profondo che causa il giustificazionismo. Altro che libertà di pensiero, qui continua l'amministrazione comunale, ci troviamo di fronte ad una schiavitù indotta dalla stessa propria scelta che diviene in tal modo ideologica e con un solo obiettivo. Accada ciò che accada, sia la verità o la menzogna, non importa, questa amministrazione va distrutta. Per la giunta messinese è sorprendente che il Movimento 5 Stelle si preoccupi oggi di ribadire con un comunicato che non appoggia questa amministrazione e che non è pentastellata senza preoccuparsi affatto a stigmatizzare e condannare i gesti di inciviltà ai quali ogni giorno siamo costretti ad assistere. Un danno ulteriore alla nostra realtà urbana che pur di farla pagare a questa giunta, chissà per cosa, hanno abbandonato la città fregandosene dal suo destino, sino al punto che i massimi dirigenti del Movimento 5 Stelle a Roma e non solo alzano le spalle quando si parla di Gela. Ma noi andiamo avanti, ha concluso l'amministrazione comunale, perché i progetti per il superamento della crisi maledetta che si è prodotta con la sottoscrizione del protocollo di intesa, sono a buon punto, progetti che un'azione congiunta dei nemici della città sta cercando di bloccare.